Aziende agricole, la regione Abruzzo stanzia 18 milioni di euro a sostegno degli investimenti per interventi di miglioramento delle imprese. Vediamo tutto nel dettaglio. Radio Uci Focus Ciao amici di Radio Uci, sono Giulia e in questa Focus Agricoltura parliamo del nuovo bando emanato dalla regione Abruzzo che prevede lo stanziamento di 18 milioni di euro a sostegno della ristrutturazione e ammodernamento delle aziende agricole. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 marzo 2023. Nello specifico 10 milioni saranno destinati agli investimenti di importo superiore ai 200 mila euro e 8 milioni per quelli di importo inferiore. Il sostegno è pari al 40% della spesa, mentre nei casi in cui l'azienda sia condotta da un giovane imprenditore oppure si trovi in zone protette o svantaggiate, oppure ancora se sono interventi agroclimatici ambientali ed agricoltura biologica, il sostegno sale fino al 60%. Gli investimenti inclusi nel bando sono Il miglioramento dell'efficienza energetica e di impianti di protezione contro le calamità naturali, l'acquisto o lo sviluppo di programmi informatici, la ristrutturazione o costruzione di immobili produttivi, il stoccaggio dei prodotti agricoli e di impianti di produzione dell'energia elettrica. Il bando prevede anche un aiuto del 10% per l'acquisto di terreni agricoli che, però, dovranno servire per la realizzazione degli interventi che ti ho appena elencato. Per quanto riguarda i macchinari e le attrezzature, invece, questi sono finanziabili solo se rientrano in un progetto che prevede interventi strutturali o opere edibili. E per ora è tutto, al prossimo Focus!